Ragazzi mi sono rasato, mi sono rasato! Invece no, sembra un ananas. Chi è un con artist? Un con artist? I con artists sono quei truffatori che ti fanno credere qualcosa per spillarti dei soldi. Stavo ascoltando il podcast di una di quelle due comiche che vi ho messo nelle storie, che sono bravissime, ve le consiglio. E una di queste due, non mi ricordo cosa stava dicendo sinceramente, ma ha detto con artist, ok? I con artist sono appunto questi truffatori, no? Quella gente, è presente magari quella gente che ti fa credere di essere uno che fa investimenti in banca, non lo so, e ti spilla dei soldi? Ecco, quella gente lì. The couple lost their savings to a con artist. I savings sono i soldi che vi mettete da parte, ok? I soldi che salvate, i savings che vi mettete da parte. Quindi, the couple lost their savings. La coppia ha perso questi soldi messi via per un con artist. Cioè, un con artist gliel'ha spillati. The con artist was posing as an investment banker. Quindi, il con artist si spacciava per un investitore della banca, vabbè, investment banker, uno che lavora in banca, comunque. Comunque, volevo dirvi, no? Come primo tentativo per tagliarmi i capelli, ve la dico tutta, io me li ero fatti anche tutti belli scalati, nel senso omogenei, no? Però poi ho detto, a parte voi in video, non mi vede nessuno per altre due settimane, almeno chi se ne frega. Li voglio più corti, me li faccio più corti, vedo come vengono. E sono venuto un ananas. E chi se ne frega? Il problema è che non si vede, ma qua dietro ho un buco. Però ho un dubbio, sono stato io a farlo con la macchinetta, quel buco lì? O c'era già, perché sto perdendo i capelli? Ciao!